lo zodi 105 presenta test di casting la rivista hobby and bobby è alla ricerca di un testimonial per i suoi nuovi collezionabili da edicola la vittima dovrà essere convincente nel vendere gli strambi fascicoli quali il corso per diventare sosia di maradona il corso di autodifesa creativa un ricorso basi di comicità eh se si ride tutto simpaticone ma non sa che sta per diventare vittima di teste di casting ciao benvenuta perché sei qua perché sei venuta qua ok vediamo se sei veloce e spigliata nel parlare facciamo una prova di scioglilingua peppe contro pippo puppe contro peppe peppe contro pippo peppe contro pippo puppe contro peppe bravo vedi devi essere l'antitesi di quello che stai raccontando prova a guardarmi in camera e dire morte morte bella 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 questa è una raccolta si chiama il corso per diventare sosia di maradona prendi pure il fascicolo quindi ti devo invogliare a comprare il prodotto anche una persona che una donna può essere sosia di maradona no non è sosia beh se tu la vedi nel senso comunque lei è una cosa questo rientra nel quadro del granca eh tutto questo rientra nel quadro del granca vediamo che il granca è il gran c***o che ce ne frega da oggi è uscito in edicola il corso per diventare sosia di maradona eh la madonna adesso che esagerazione guardi in camera con il giornale non coprendolo alzandolo rottami caduti dal cielo è una raccolta hobby and bobby rottami caduti dal cielo è una raccolta hobby and bobby bello bravo bravissimo nel primo numero per diventare il sosia di maradona la sua testa è bravo bravo nel secondo numero le sue palle preferite nel secondo allora il secondo numero per D beh in dove perché lo fa spezzato? sei nel pallone? per diventare il corso per il corso di non la dirà mai hobby and hobby le sue palle molto bene bravo 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 nel primo numero un cuore umano con il primo numero di rottami caduti dal cielo un cuore umano con il secondo numero le corna di lady dina dopo l'incidente con l'obelisco di balzar eh lo so è così eh lo so col secondo numero di rottami caduti dal cielo il corno di lady dina dopo l'incidente con l'obelisco di balzar fagli suonare il corno e suona pure e suona pure è un prodotto hobby and bobby non ce la farà mai è un prodotto bobby and bobby no hobby and bobby il corso per diventare il sose di diego armando maradona è un prodotto hobby and bobby bravo ti faremo sapere è un prodotto hobby and bobby non ce la farà mai è un prodotto hobby and bobby non ce la farà mai è un prodotto hobby and bobby non ce la farà mai non ce la farà mai